Quando devi sostituire l'impianto di alimentazione del tuo macchinario Fendt, richiedi sempre ricambi originali Agco al tuo concessionario. Le prestazioni e l'affidabilità dell'impianto di alimentazione sono fondamentali per garantire che il tuo macchinario sia sempre efficiente. Questo vale soprattutto per i motori moderni, gestiti elettronicamente e dotati di pompe ed iniettori Common Rail. Questi propulsori sono appositamente progettati e costruiti per soddisfare i requisiti delle tue macchine agricole. Qui vediamo un motore perfettamente bilanciato sul quale sono installati i ricambi originali. La centralina, la pompa e gli iniettori sono sincronizzati per erogare la massima potenza con il minimo consumo di carburante. La pressione del sistema Common Rail, che si attesta sui 2000 bar, rimane stabile e il carburante viene immesso al momento giusto e nella giusta quantità. Le particelle di diesel vengono nebulizzate in modo uniforme e con la giusta densità per garantire un combustibile ottimale all'interno della camera di scoppio. In ciascun cilindro avvengono tre scoppi per ogni ciclo, pre-accensione, accensione principale e post-accensione, per eliminare qualsiasi residuo all'interno del cilindro. Solo i costruttori hanno la competenza per tarare ciascun componente di questo sistema ai parametri corretti, per fare in modo che il tuo motore eroghi la massima potenza, ma sia al contempo efficiente e rispetti gli standard sulle emissioni. Vediamo ora cosa succede quando installiamo ricambi non originali. La pressione del Common Rail non è costante ed è soggetta ad ampie oscillazioni. La quantità di carburante nebulizzata nel cilindro non è uniforme. Le particelle non sono omogenee, hanno una forma irregolare e siccome non sono ben distribuite nella camera di scoppio, si creano zone di vuoto. Il risultato è una combustione irregolare e incompleta, che causa un drastico calo di potenza e di efficienza. Nei casi più estremi, ad esempio, immettere troppo carburante durante l'iniezione può causare un aumento eccessivo della pressione del cilindro, con conseguenti danni ai pistoni o addirittura un blocco totale del motore. Il tuo concessionario Agco può offrirti un'ampia selezione di ricambi nuovi e rigenerati per il tuo macchinario, che sarà sempre affidabile e potente. Ricambi originali costruiti, tarati e testati secondo le specifiche originali del costruttore. Con una garanzia completa di 12 mesi sull'intera unità e tutta l'assistenza di prodotto disponibile da Agco Parts. Quando dovrai sostituire l'impianto di alimentazione, contatta il tuo concessionario Agco di fiducia e richiedi un ricambio originale Agco, la migliore soluzione per garantire prestazioni, efficienza e risparmio nel tempo.